Benché le Camere siano state sciolte, ci sono lavori che possono arrivare a compimento. Tra questi la riforma della cosiddetta giustizia tributaria all'esame della Sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato, presieduta da Luciano D'Alfonso. E' la riforma di ciò che più incide nella vita di chi produce ricchezza in Italia, di chi adempia gli obblighi dell'articolo 53 della Carta Costituzionale. Noi abbiamo in Abruzzo per esempio un monte di contenzioso tra commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e poi tutto quello che si mobilita in Cassazione che è pari per numero a 3.000 istanze l'anno di contenzioso tributario per un valore di circa 10 miliardi di euro di oggetto di contenzioso. Da oggi la riforma sarà al Senato, diversi punti salienti tra cui l'assunzione tramite concorso per esami di 567 magistrati tributari a tempo pieno tra il 2023 e il 2030. L'autonomia e indipendenza del giudice tributario, l'accesso al concorso anche per i laureati in economia, lo spostamento dell'onnere della prova dal contribuente all'amministrazione finanziaria, pace fiscale sostenibile con lo stralcio di 50.000 liti assai risalenti pendenti in Cassazione, l'assegnazione di un bolino blu ai contribuenti virtuosi che avranno una premierità fiscale, il reclamo e la mediazione come istituti tendenti a ridurre i contenziosi, l'introduzione anche in Cassazione di una sezione specializzata tributaria che ora manca. Insomma sarà un lavoro che faremo a più mani, con ragionevolezza, perché sappiamo che è una grande questione della libertà, della democrazia di questo Paese. Ci lavoriamo organizzando una genitorialità diffusa, dei meriti riguardanti la fondamentalità di questa riforma, che è attesa anche nei rapporti con l'Europa. L'Europa ci ha posto questo obiettivo come uno degli obiettivi fondamentali del patto.